Buongiorno a tutti, nuova puntata di Medicina Top, anche oggi parleremo di cose interessanti ma con parole semplici in modo che tutti possano capire. Avremo ospiti Andrea Mambretti dell'Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il quale parleremo di fratture, prima volta che parliamo di fratture, il professor Paolo Ascerto dell'Istituto dei Tumori di Napoli con il quale parleremo di melanoma e soprattutto di vaccino, novità vaccino per il melanoma e per finire avremo ospite Elisabetta Rusconi, esperta di gestione di studi medici, con lei scopriremo quello che c'è dietro una visita, un esame o comunque in quale modo possono essere aiutati i pazienti oltre che dal loro medico o dal loro chirurgo. Via primo servizio su Andrea Mambretti e sulle fratture. La frattura è un'interruzione nella continuità di un osso in due o più parti, i cosiddetti munconi di frattura. La fessura che si crea fra di essi è chiamata rima di frattura. Ci sono varie modalità di classificazione delle fratture. La prima è in base alle cause che la determinano. Le fratture patologiche si verificano quando l'osso è malato, le fratture traumatiche quando la parte è colpita da un evento esterno, ad alta o a bassa energia. Altri criteri definiscono le fratture come chiuse o esposte, complicate o semplici, composte o scomposte, stabili o instabili. Non sempre la frattura richiede un intervento chirurgico e non sempre richiede un gesso. Anche in questo campo il trattamento personalizzato e l'approccio tempestivo migliorano la qualità di vita del paziente e il risultato finale. Andrea Mambretti è specialista in ortopedia e traumatologia e dirigente medico della traumatologia sportiva del centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini di Milano. Ciao Andrea, benvenuto a Medicina Top. Ciao Marco, grazie dell'invito. Oggi fratture, Andrea. Oggi un argomento grande. Frattura, intanto partiamo dalla definizione. Frattura, frattura in latino, sostantivo da fractus rotto, che è il participio passato di frangere, quindi è una rottura dell'osso. Le fratture sono innumerevoli, innumerevoli sono le cause delle fratture. Tutti pensano che le fratture avvengono sempre solo per un tramo, ma in realtà poi vedremo che non è così. E anche il trattamento delle stesse fratture, Marco, negli ultimi quarant'anni ha subito un'evoluzione ed è in continua evoluzione a ricerca di materiali sempre migliori, di materiali che consentono al paziente una ripresa sempre più precoce. Ma Andrea, a proposito per esempio di fratture non da trauma, come dire, non da rottura secca, cosa può succedere per esempio negli sportivi? Nello sportivo la frattura più classica è la cosiddetta frattura da stress, cioè il gesto ripetuto, quindi la continuità di quel gesto lì, porta a un cedimento dell'osso, tipico è la frattura delle ossa metatarsali nel podista, quindi quello che va a correre magari tutti i giorni... Quindi questa mi sembra già una prima notizia per i nostri amici a casa, di quali magari qualcuno corre... Assolutamente sì, perché spesso è misconosciuta, cioè il soggetto riferisce un dolore non così lancinante, magari al piede, va a farsi vedere dal medico di base e qua dice ma no, ma non ti preoccupare, tu corri, appoggerai male, avrai bisogno di un plantare, il dolore persiste nel tempo e spesso si presentano in un pronto soccorso a distanza anche di 20 giorni, quindi già con un processo riparativo in corso della frattura, ma si vede che c'è questa frattura. È una frattura da stress, quindi dalla ripetitività del gesto. Quindi in qualche modo bisogna cautelarsi quando comincia a sentire dolore, vuol dire che devi... Bisogna imparare a sentire il proprio corpo e riconoscere i messaggi che il nostro corpo ci dà. Senti Andrea, e invece nel caso degli anziani? Gli anziani è un capitolo enorme Marco, nel senso che la popolazione italiana, ahimè, è sempre una popolazione più vecchia, quindi siamo pieni di grandi anziani e di grandi anziani che hanno spesso tantissime difficoltà, perché andando al di là con l'età le difficoltà aumentano, difficoltà motori di equilibrio, quindi spesso cadono e quindi la classica è la frattura del femore dell'anziano, che un tempo era un evento drammatico, nel senso che spesso portava a un esito in fausto del soggetto, al giorno d'oggi grazie a una tempistica, è una tempistica veloce nell'affrontarla, quindi spesso devono essere operati entro le 48 ore e se meglio ancora prima, non cambia la loro qualità di vita insomma. Ma Andrea, negli anziani questo avviene anche per carenze alimentari o per comunque cambiamento di struttura delle ossa? Esistono negli anziani anche le cosiddette fratture su base metabolica, cioè uno squilibrio metabolo e uno squilibrio del metabolismo e del calcio può portare a cedimenti vertebrali, spesso la zona più frequente e più interessata è la colonna vertebrale, quindi l'anziano riferisce un dolore alla schiena, spesso il parente dice ma sì mamma hai mal di schiena insomma non sei più giovanissimo, ma in realtà l'osso ha ceduto. Può venire anche nel femore, cioè nell'anziano ogni tanto le fratture di femore non sono perché il paziente cade, ma l'osso si frattura per un problema di metabolismo, quindi un problema di osteoporosi e quindi poi cade. Esatto, esatto. Ma non è che cade e si rompe, si rompe e quindi poi cade. Senti Andrea, tanto per aiutare una volta di più i nostri amici a casa che sono sempre interessati a scoprire cose nuove, ma tu hai una frattura, in casa tua c'è una frattura anziano o meno anziano che sia, la gente è un po' confusa perché magari non capisce quando una frattura si è trattata in modo tradizionale come succedeva una volta, si prendeva un bel gesso, lo si metteva, si teneva su per delle settimane, qualche volta per dei mesi, oppure invece adesso senti dire sempre più spesso che le fratture vengono operate, come si fa? Come può un immaginare a discriminare? Sai Marco, come in tutte le cose bisogna metterle sulla bilancia e vedere quali sono i vantaggi per il paziente, quindi spesso dipende anche chi abbiamo di fronte e che tipo di frattura abbiamo di fronte, nel senso che le fratture composte spesso non ha senso trattarle chirurgicamente, ma basta un'immobilizzazione, un tempo si faceva col gesso, adesso esistono anche dei brace, dei termoconformati che sono molto più, meno pesanti. Meno pesanti e più confortevoli. Esatto, creano meno disagio al paziente, oppure nel giovane anche certe fratture composte comunque si tende a sintetizzarle perché consentiamo al paziente di avere una mobilizzazione comunque di quell'arto, di quel segmento interessato fin da subito e quindi ha un recupero poi dopo molto più veloce perché se io tengo un segmento immobilizzato per tanto tempo poi anche il giovane fa fatica a recuperare. Perché una cosa Andrea per esempio che ha colpito sempre noi, che ha colpito sempre i profani, anche magari meno profani come a me, sono i giorni. Cioè in base a cosa, su cosa vi basate? Ci basiamo su una cosa che non è cambiata negli ultimi 50 anni, cioè il tempo biologico di guarigione di una frattura non è cambiata. Noi siamo migliorati nelle tecniche, nell'approccio rispetto alla frattura, ma il tempo biologico, il tempo di formazione del callo osseo, quello rimarrà sempre lo stesso. Non succede che un paziente sceglie l'ortopedico che propone solo 30 giorni contro 45. No, i giorni sono sempre gli stessi. La differenza è che se io lo tratto chirurgicamente e gli do una sintesi stabile, magari lo posso riportare a una vita pseudonormale prima, ma il tempo di guarigione della frattura non cambia. Certo. Ci fai vedere magari la regia, la foto 2, in modo che commentiamo Andrea? Questo è un caso interessante, perché questo è un soggetto giovane che ha avuto un trauma in ambito sportivo, si è presentato in un pronto soccorso dopo 3 giorni, dicendo che aveva male al ginocchio, fa una radiografia e ha una prima visione, può sembrare che non ci sia nulla. Sì, sarebbe niente infatti. In realtà il margine laterale dell'inipiatto laterale tibiale è fratturato. Si poteva anche trattare conservativamente, cioè dire benissimo, li immobilizziamo l'arto, non gli diamo il carico e in 45 giorni sarebbe più o meno tornato a una vita normale. Invece abbiamo avuto un approccio diverso, un approccio chirurgico, tra parentesi per via artroscopica, quindi senza neanche essere invasivi nei confronti del paziente. Dovrebbe essere invasivo in incidere, esatto, cuta. Abbiamo ridotto meglio la frattura per via artroscopica e poi per via percutanea abbiamo stabilizzato la frattura con due vite. Per via percutanea vuol dire che attraverso la cuta... Vuol dire che facendo un taglietto di mezzo centimetro abbiamo inserito questa vite. Il vantaggio qual è? Il vantaggio è che il paziente non ha avuto nessuna immobilizzazione nel post-operatorio, quindi il movimento del ginocchio l'ha conservato. Quindi meno tempi di rieducazione, Andrea. Assolutamente sì, assolutamente sì. Lui aveva solo l'handicap di usare due stampelli e non poter appoggiare tutto il peso fin da subito, però insomma è stata una ripresa molto più veloce. Invece nel caso della foto 3, che adesso la regia ci passa, andiamo a parlare di altre cose. Non tutte le fratture vengono immobilizzate, come tu ci dicevi, ma vengono invece spesso operate. Allora, questo è un esempio abbastanza emblematico. Questa è una frattura che noi definiamo scomposta e facilmente da capire, nel senso che i due monconi dell'osso sono lontani uno dall'altro. Qui tra parentesi c'è anche un accorciamento di circa 3 cm dell'arto superiore. Parecchio, infatti. E quindi non era gestibile trattarlo in maniera conservativa. A parte che, essendo così distanti i monconi, i processi di guarigione probabilmente non sarebbe mai avvenuto. E quindi, insomma, creare un disagio al paziente. E le nuove metodiche di sintesi consentono di ridurre perfettamente in maniera anatomica la frattura e dare la possibilità al paziente fin da subito di poter muovere. Essendo poi un'arto superiore, quindi non soggetto al carico, il paziente praticamente fin da subito può muovere il braccio come succedeva prima nell'evento traumatico. Certo. Ascolta Andrea, per riassumere per i nostri, sempre per tutti quelli che ci seguono da casa, ma facciamo una specie di piccola tavola sinottica. Frattura, te ne accorgi perché hai dolore. Il primo sintomo è il dolore. Qualcuno parla anche addirittura di sentire quasi degli schianti per alcuni tipi di ossa, eccetera. Dipende dall'evento traumatico che ha portato alla frattura. Cioè se uno ha un trauma ad alta velocità, si rende conto da solo che si è fratturato. Se uno ha un trauma a bassa velocità oppure una caduta banale, non sempre pensa di essersi fratturato. A quel punto lì Andrea, pronto soccorso. Pronto soccorso, se possibile, di un ospedale specialistico come il vostro, ma anche di un ospedale generale. All'ospedale generale comunque è dove il medico di pronto soccorso sottopone il paziente alla prima indagine standard che è quella della radiografia. Lì viene escluso se c'è qualcosa di grossolano, lo si vede assolutamente. Ecco, le piccole fratture o le fratture composte che all'inizio non si vedono. Bisogna passare un accertamento di seconda fascia, quindi quale per esempio un'attacca, che non sempre può essere fatta in pronto soccorso. Esatto. E invece le fratture, Andrea, magari piccole di questo genere, come quella che ci hai illustrato prima, tibiale, che vengono misconosciute, cosa può succedere? Allora, il rischio è che se il paziente non si presenta in pronto soccorso, se non lo tratti, soprattutto di quel caso. Non viene trattato, quindi lui torna a fare una vita normale fin da subito, quel pezzettino di osso che è fratturato decade, cioè scende un filino, si scompone la frattura. Quindi da una frattura composta diventa una frattura scomposta, che poi prevede un intervento molto più grosso, molto più invasivo e anche i tempi di recupero si allungano tantissimo. Anche perché se si salda male Andrea crea poi delle chiaramente... Assolutamente, degli endico al paziente importanti. Quindi occhio alle fratture per i nostri amici a casa. Ringraziamo Andrea Mambretti che è stato brillante anche questa volta e ci ha spiegato finalmente con le fratture. Il prossimo ospite è il professor Paolo Ascerto, napoletano, dell'Istituto dei Tumori di Napoli. Con Paolo Ascerto parleremo di melanoma e soprattutto di vaccini nuovi in tema di melanoma. Via servizio su Paolo Ascerto. Il melanoma è un tumore maligno che origina dai melanociti, le cellule dell'epidermide che determinano in parte il colore dell'acute. Se non diagnosticato per tempo e opportunamente trattato, è letale. Considerato in passato un tumore raro, mostra oggi un'incidenza in crescita in tutto il mondo. Numerosi studi suggeriscono addirittura che negli ultimi dieci anni il numero di melanomi sia raddoppiato, arrivando a 100.000 nuovi casi all'anno. Il principale fattore di rischio per il melanoma cutaneo è l'esposizione eccessiva e ripetuta alla luce ultravioletta, UV, principalmente veicolata dai raggi del sole. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, la stima approssimativa dei decessi attribuiti al melanoma è di 14.000 casi l'anno, anche se l'ultima novità, il vaccino a mRNA, potrebbe a breve scrivere una pagina completamente nuova nella cura di questo tumore. Paolo Ascerto è direttore dell'unità operativa complessa melanoma immunoterapia oncologia e terapie innovative dell'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori, Fondazione Pascale di Napoli, ed è riconosciuto come uno dei massimi esperti mondiali nella cura di questi tumori cutanei. Benvenuto Paolo, ciao, benvenuto a Medicina Top. Grazie Marco, grazie a voi per l'invito. Piacere di avere il tuo collegamento da Napoli. Paolo, perché è così pericoloso il melanoma? Nel frattempo magari la regia ci passa un'immagine che Paolo poi ce la commenta. Il melanoma è pericoloso perché? Perché un tumore maligno come tale è in grado di dare metastasi e il melanoma in particolare ha un'elevata capacità di metastasizzare. Quindi un singolo tumore che sembra banale, piccolo, invece ha questa elevata capacità di invadere i versi sanguigni e quindi dare origine a malattia disseminale. Paolo, ma prima di arrivare a parlare di vaccini, di cui poi vogliamo dare notizia ai nostri amici a casa in modo che ne siano bene al corrente, è vero che il melanoma, soprattutto negli ultimi anni, si presenta con forme anche meno facilmente riconoscibili, perché in passato l'ha caratterizzato come quella macchia nera che la regia ci fa vedere in questo momento, ma in realtà mi pare che le presentazioni siano cambiate negli ultimi anni. Iniziamo col dire che negli ultimi anni il melanoma è aumentato di incidenza. Intorno agli anni 2007 e 2008 i casi incidenti erano 7.000 con 1.500 morti. Adesso sono quasi 15.000 con 2.500 morti. Molto aumentato, certo. Molto aumentato, da mettere in relazione, poi semmai lo discuteremo con lo stile di vita. È vero anche che ci sono delle forme insolite, perché adesso abbiamo 15.000 casi. I dermatologi sono diventati uno più bravi, quindi riescono a prendere anche i melanomi in situ. Però ci sono delle forme, soprattutto il melanoma nodulare amelanotico, cioè che non è nero, che può mimare tante altre cose che sembrano addirittura benigne, ma non lo sono, e che è un insidio per i dermatologi. Hai delle situazioni in cui anche il basalioma, che è il tumore cutaneo più frequente, in realtà viene, qualche volta può essere confuso con il melanoma, perché le presentazioni sono molteplici. Invece quell'immagine che tu vedi, di quella macchia scura, nera, con una macchia più sfumata in periferia, come la commenteresti? Ma quello è il classico melanoma. Quando noi parliamo poi dopo dei fattori dell'ABCDE, per riconoscere il melanoma, lì ci sono tutti. L'asimmetria della lesione, i bordi regolari, cosiddetti a cartina geografica, il colore variegato, le dimensioni superiori a 6 cm, e l'evoluzione nel giro di poco tempo. Se noi andiamo a indagare, è una lesione che è mutata nel giro di settimane o qualche mese. Tu parlavi di dimensioni maggiori di 6 mm, giusto? 6 mm. Esatto. Paolo, quindi sostanzialmente in termini di riconoscimento è cambiato poco da quello che abbiamo studiato noi all'università. Assolutamente sì. Basta fare riferimento, come diceva, all'ABCDE oppure a quella che i dermatologi chiamano regola del brutto anatrocro, cioè quando uno ha tanti nei, quello più brutto è da far vedere immediatamente. Immediatamente. Senti, e per arrivare invece alla novità di oggi, si parla di vaccino a mRNA. Ci illustri brevemente come funziona? Allora, iniziamo col dire che fortunatamente la storia del melanoma è cambiata. Poi dopo, semmai, entreremo anche nel dettaglio. E nel cambiare adesso abbiamo anche dei trattamenti adiuvanti che significa dopo la chirurgia. Trattamenti che danno in questo momento una riduzione del rischio del 50%. Ora abbiamo la possibilità di aggiungere a questi trattamenti, all'immunoterapia in particolare, questi vaccini. Questi vaccini personalizzati, come funzionano? Noi immaginiamo che il nostro sistema immunitario sia una potente macchina da corsa, con uno sterzo, un acceleratore e un freno. Ecco, i vaccini, in questo caso personalizzati, poi vedremo come si sviluppa, è in grado di far correre questa macchina a maggior velocità verso l'obiettivo che è quello di uccidere le cellule. Fondamentalmente, il vaccino viene preparato dal DNA del melanoma, quindi il campione di melanoma, quello proprio incluso nella paraffina. Il vaccino è un vaccino veramente personalizzato, come tu dicevi. Personalizzato, quindi viene incluso nella paraffina, viene mandato, in questo caso, al laboratorio di Moderna che lo sta sviluppando, ci tirano fuori al DNA, noi sappiamo che ha un gene, quindi al DNA che corrisponde a una proteina. Siccome il tumore, il melanoma in questo caso, ha proteine mutate, tipiche del melanoma, ci sarà nel DNA la godifica di queste proteine che sono chiamate neoantigeni, cioè tipiche del melanoma. Si tira fuori il DNA, c'è un algoritmo, quindi intelligenza artificiale, che va a mettere in ordine quelle più immunogeniche, le 34 più immunogeniche, quindi ha quel DNA di questi 34 si ricava, certo. L'RNA messaggero del vaccino. E tu Paolo, quando pensi che questo possa diventare un trattamento, che sia un trattamento, come dire, per buona parte dei pazienti colpiti da melanoma, che adesso mi pare di capire che è molto selezionato, cioè essendo in fase semisperimentale, penso che siano pochi i casi che possono beneficiare di questo vantaggio, vero? Allora, iniziamo col dire che perché siamo tutti entusiasti, perché abbiamo visto dei dati di fase 2, che è lo studio preliminare, che ha detto che a quel famoso 50%, possiamo aggiungere un ulteriore 44%, quindi tantissimo, certo, e addirittura il 66% di riduzione del rischio di metastasi a distanza, quindi dei dati incredibili. È iniziato da poco il fase 3, che dovrà arrollare 1.500 pazienti, ne ha arrollati quasi 500, quindi altre 1.000, probabilmente ci vorrà ancora un po', per fine anno forse si chiude l'arrollamento, e poi bisogna aspettare un paio di anni. Diciamo che in tre anni dovremmo avere risultati, se il risultato è positivo, a quel punto va direttamente in farmacia. Paolo, ma vaccino a parte, fase 3 a parte, come avviene oggi la cura del melanoma? Come dicevo prima, la storia del melanoma è cambiata, perché? Perché oggi siamo in grado di guarire il 50% dei melanomi metastatici, cioè con metastasi, cosa che fino al 2010 non era lontanamente neanche pensabile, certo. all'immunoterapia attuale, cioè quella che va a agire sui freni e l'acceleratore della macchina, rendendo più potente. Che è un po' meno specifica, ma che è efficace comunque, voglio dirti. Quindi dobbiamo fare di più per aumentare questo 50%, però stiamo andando negli stati più precoci, quindi l'adiuvante e la neadiuvante. Sappiamo che i pazienti trattati con immunoterapia nell'adiuvante a 7 anni e mezzo, un dato che è stato portato l'anno scorso all'esmo, il 70% dei pazienti è ancora vivo, quindi prima c'era al di sotto del 50%, abbiamo ricoverato ecco, un altro 20%, ci non espiriamo. Sono medie, Paolo, veramente incoraggianti tutte queste e sempre per aiutare i nostri amici a casa che sono sempre attenti a questo tipo di risposte. Ti faccio delle domande rapidissime flash. Aver avuto nella storia della famiglia un padre, un nonno con un melanoma, ti suggerisce di stare più attento, di guardarti meglio le macchie addosso? Assolutamente sì, soprattutto se c'è un parente diretto, vada a dire mamma, fratello, sorella. Questa è già una risposta importante per i nostri amici. Seconda domanda, Paolo, quali sono le razze o comunque i coloriti cutanei che sono più facilmente interessati, oppure ha relazione, un'importante relazione anche a questo con l'esposizione al sole o molto meno degli altri tumori cutanei? Diciamo quei fototipi, perché così si chiamano, che sono più chiari, esatto, gli occhi azzurri, pelle chiara, capelli rossi, cioè quei soggetti che al sole si scottano facilmente ma non si abbronzano, quelli sono sicuramente più a rischio, ma attenzione, perché non è detto che il fenotipo così, detto mediterraneo, sia scevolo. Io vedo purtroppo tanti pazienti che sono scuri, mori, e purtroppo hanno contratto il melanoma. Certo. A un malato oggi cosa diresti? Cioè quali sono i passi che deve avere certamente rivolgersi al proprio dermatologo o comunque oncologo per avere una conferma della propria diagnosi e dopo di che, Paolo, che si fa se uno ha un problema di questo genere? Ma come dicevo, oramai per il melanoma ci sono dei trattamenti consolidati sia di adiuvante che nella malattia metastatica. Questo lo si può fare dappertutto. Ci sono oramai centri di oncologia anche periferici attrezzati. Ci sono dei centri di eccellenza dove c'è qualcosa in più, quindi quelle sperimentazioni che cercano di andare oltre quel 50%, quindi affidarsi a un centro di eccellenza è sempre garantito. È sempre garantito, certo. Per dare un ultimo consiglio, Paolo, a chi è a casa, esiste una possibilità in qualche modo di difendersi o di prevenire la comparsa di un melanoma mica tanto immagino. No, no, assolutamente sì. Allora, guarda, c'è un dato molto, ma molto interessante degli ultimi anni. Qual è questo dato degli ultimi anni? Perché in Australia, dove c'è un battaglio, l'Australia è il paese più colpito dal melanoma, un'incidenza enorme, è un po' come l'epatite virale diciamo giù da noi. E che cosa hanno fatto? Hanno fatto delle campagne di prevenzione invitando i bambini soprattutto che è l'anello debole a mettere la crema, gli abbigliamenti particolari. Ebbene, dopo tanti anni in cui l'incidenza aumentava da qualche anno è in discesa. Quindi vuol dire che certo questo sistema di prevenzione è efficace e quindi è quello che noi suggeriamo anche i nostri amici che ci hanno ascoltato. Paolo, sei stato estremamente esauriente, brillante, nel risposto è simpatico, ti ringraziamo. Quindi chiudiamo il tuo collegamento, salutiamo Napoli e te con Napoli, chiudiamo il collegamento e appuntamento con te la prossima volta. Grazie. Grazie a voi. Ciao Paolo. Grazie. La prossima ospite è Elisabetta Rusconi con la quale parleremo di come si può gestire uno studio medico e i pazienti di uno studio medico. Altro argomento importante per chi ci segue in modo che sappia come orientarsi e non avrà a che fare con i collaboratori dei propri medici e dei propri chirurghi. Vi a servizio su Elisabetta Rusconi. Da una parte i medici, dall'altra i pazienti. Al centro tanta empatia, accoglienza, organizzazione e tanti obblighi burocratici. La gestione efficiente di uno studio medico concorre in modo decisivo a determinare la qualità della prestazione sanitaria, una cornice di professionalità e calore che ha un grande impatto sulla percezione del paziente e sul suo vissuto. Elisabetta Rusconi ha una grande esperienza nella gestione di studi medici, un lavoro che svolge ai massimi livelli e con grande apprezzamento di medici e pazienti. Ciao Betty, benvenuta a Medicina Top. Buonasera Marco. Sono felice che tu sia qua con noi oggi perché è un argomento che interessa sicuramente chi ci segue. Gestire uno studio medico vuol dire gestire soprattutto le persone e le loro richieste, Betty. Certamente, che possono essere più svariate. Quindi è una cosa che ti capita di ricevere domande che dovrebbero essere fatte al medico e cosa ti capita di rispondere? Domande frequentissime e spessissime accadono queste tipologie di domande. Ovviamente il limite è dove può finire il mio intervento rispetto poi a quello della figura del chirurgo. Le domande possono essere le più disparate che possono andare ve ne butto lì una che è simpatica secondo me che è in cima alla lista dopo un intervento ad esempio di mastoplastica additiva o comunque un intervento al seno la domanda che prevalentemente viene fatta è che tipo di reggisena devo comprare e la misura. È una chicca. Che sono cose che magari con questo avete capito che Betti non è una segretaria e gestrice dell'attività medica qualunque ma è la mia segretaria la gestrice della mia attività e siamo entrati anche nel tema di quanto si occupa Betti direttamente oggi. Oggi mi direi da un bel po' di tempo. Ma che tipo di rapporto si crea Betti tra te e i pazienti? ma è un rapporto che chiaramente parte così di rispetto innanzitutto di conoscenza e devono affidarsi a te a me in questo caso come figura e logicamente spesso poi può anche perdurare nel tempo e diventare anche un rapporto di amicizia innegabile. Perché si crea un rapporto quasi più intimo tra quello che è il collaboratore del medico o segretaria o infermera forse perché magari è la persona che è così il tradunione alla quale possono fare delle domande che magari al medico perché il paziente uno dei nostri amici a casa che domani diventasse paziente di uno studio medico probabilmente ha più facilità nell'esporre le sue richieste nel richiedere ancora le stesse cose certamente certamente che si sente più a suo agio perché è un livello sicuramente differente rispetto a quello del chirurgo io non direi è un livello diverso si è ragione forse la parola migliore è anche un livello diverso ma gli anni questi anni i betti gli anni 2000 erotti 2024 come sono hanno portato anche a un grande aumento della burocrazia cosa ha voluto dire per la gestione di qualunque studio medico professionale beh sicuramente le normative sono cambiate sono diventate molto più restrittive per cui sicuramente più tempo da dedicare proprio anche all'aspetto prettamente chiamiamolo burocratico tra virgolette io penso ogni tanto che sia anche esagerato come tipo di tempo dedicato agli aspetti burocratici però indietro non si torna in qualche modo penso proprio anzi temo che il futuro vada proprio in questa direzione per cui sicuramente è una fetta quindi in qualche modo c'è una fetta di tempo che è dedicata sicuramente sicuramente più che in passato e forse anche un po' meno agli aspetti personali e rapporti personali e il tempo chiaramente che tu puoi dedicare al paziente a volte e diminuisce ovviamente Elisabetta durante la pandemia il covid ha comportato anche differenze per quanto riguarda gli studi medici qual è stata la difficoltà maggiore che sei trovata a superare? La difficoltà maggiore è stata cercare di far rispettare comunque le normative sanitarie che chiaramente in quel momento erano molto restrittive non è stato facile perché è cambiato proprio anche il modo di lavorare il rapporto con i pazienti le distanze e via dicendo e comunque devi sempre cercare di tenere di dare lo stesso fiducia al paziente e di farlo sentire a suo altro era difficile far rispettare la disciplina senza cambiare il tipo di rapporto senza cambiare il tipo di rapporto esatto sicuramente è stata una cosa delicata l'abbiamo vissuta anche noi medici le stesse difficoltà che avete vissuto voi di fianco a noi le abbiamo vissute anche noi perché comunque in qualche modo era più difficile installare il rapporto vicino ai pazienti sicuramente il rapporto vicino ai pazienti è quello che ti fa comprendere meglio le malattie o le loro esigenze in situazioni in cui non si trattano malattie e certamente il distacco per esempio creato dalla mascherina alla distanza cambia completamente il tipo di rapporto i pazienti li hai trovati cambiati dopo il covid? direi ma non solo i pazienti io penso che forse un po' tutti noi siamo cambiati certamente la cosa che a me viene di primo acchito è di dire che è aumentato un pochino l'egoismo che c'è in ognuno cioè si è perso un po' questo aspetto un po' dell'altruismo di essere portati così ad aiutare gli altri avere rispetto e avere rispetto degli altri è emerso un po' troppo è una riflessione che ho fatto spesso anch'io a Betti e apprezzo molto il fatto che siamo arrivati insieme alla stessa e come la sensazione come sgradevole come se in questo momento ognuno di noi o buona parte di noi si occupino del metro quadrato come dico io sul quale camminiamo viviamo dimenticando che c'è tutto il resto intorno e questo probabilmente lo si apprezza anche nei maggiori tipi di difficoltà con i rapporti dei pazienti anche negli studi medici domanda a sé che Betti invece che è molto curiosa anche per gli amici a casa è più facile avere a che fare con un uomo o con una donna? direi indifferente non ho avuto quali sono queste tipologie di paziente uomo o donna hanno secondo te esigenze differenti o un modo di comportarsi differenti? no direi di no possono avere le stesse paure gli stessi timori ti chiedono esattamente magari una donna entra più facilmente in contatto con te e si lascia più andare sì diciamo che forse perché da donna a donna c'è più complicità un uomo magari ha un po' più di pudore nel dirtelo sì ma anche se l'uomo è un po' cambiato forse rispetto all'uomo di una volta obiettivamente per cui direi che è abbastanza similare pensi che abbia un'influenza nei rapporti tra medici e pazienti medici di qualsivoglia specialità e pazienti l'ambiente di lavoro cioè un ambiente di lavoro che sia un ambiente più favorevole più positivo piuttosto che un ambiente più assettico sicuramente un ambiente positivo un ambiente dove comunque cerca di regnare malgrado le problematiche che ci possono essere in qualsiasi tipologia di lavoro però che cerca di creare serenità e poi aiuto reciproco sicuramente vincente e ti dà la spinta per lavorare meglio credo a tutti certo senti ma il tuo lavoro finisce lì dove sei nello studio che gestisci negli studi anche più grandi multispecialistici che hai gestito in passato oppure spesso vuol dire portarti anche il lavoro a casa no no è il lavoro che ti entra a casa a gamba tesa è inevitabile il lavoro entra a casa a gamba tesa e la disponibilità che devi dare perché comunque ti possono fare mille domande a qualsiasi ora ma più che altro è perché vogliono se il paziente vuole essere quindi rinfrancato ma tutte queste frequentazioni mediche che tu hai avuto nella tua carriera professionale ti hanno mai fatto pensare questa è una domanda che volevo farti da tanto tempo immaginavo ti ti sarebbe piaciuto magari per questo vale per la prossima vita fare medico oppure il chirurgo oppure il chirurgo oppure di stare dall'altra parte o ti è già piaciuto così beh sicuramente così mi è piaciuto in quanto è un lavoro gratificante ho avuto tantissime dimostrazioni di affetto e stima comunque da medici da personale delle varie cliniche dai pazienti stessi per cui sicuramente è un lavoro gratificante la domanda che mi hai fatto non so ogni tanto ci penso forse sì ma più verso nel settore di ricerca c'è qualcosa non sono pronta forse con l'aspetto prettamente chirurgico questo non lo so io trovo penso che se tu domani mattina ti scrivessi a medicina chiudo con una battuta saresti già molto avanti nel senso che hai imparato penso tante di quelle cose negli anni passati qualche esame lo farei magari non partiresti ex novo questo sì e se tu facessi probabilmente con lo stesso impegno con lo stesso stile con gli stessi risultati anche il medico chirurgo io altrettanto sarei felice di potermi trasformare in un tuo collaboratore e darti una mano mai dire mai è stata molto simpatica la tua partecipazione alla tua presenza Elisabetta con Elisabetta Rusconi chiudiamo la puntata di oggi di medicina top nella quale abbiamo parlato di fratture e finalmente abbiamo capito cosa succede quando c'è una frattura in casa nostra o con qualcuno dei nostri congiunti abbiamo riparlato di melanoma ma non è mai troppo quello che si dice tra una melanoma perché ricordiamoci è un tumore pericoloso e attraverso Elisabetta Rusconi abbiamo imparato anche a capire di fidarci dei collaboratori degli studi medici che sono il nostro primo come dire il primo gradino da affrontare ma è anche quello che ci può dare i chiarimenti utili per tutto quello che poi compete alla parte medica grazie per oggi un saluto da Marco Klinger appuntamento alla prossima ciao a tutti